buongiorno oggi è il secondo giorno del corso formativo per la parte neve degli accompagnatori di media montagna del collegio guidi alpini abruzzo saranno parte di un iter formativo che è composto da varie giornate c'è una parte tecnica su autosoccorso e nivologia e poi ci sono delle escursioni in ambiente con l'esame finale oggi è la seconda giornata saliamo su a campo imperatore a fare ricerca arva e domani e dopodomani sarà ugualmente un secondo gruppo li abbiamo divisi in due gruppi e faremo le stesse attività e alla fine del percorso col superamento dell'esame le persone saranno abilitate all'accompagnamento su neve con mediante l'uso di ciaspole verranno gli elenchi verranno forniti a tutti quanti gli enti di controllo del territorio quindi le politiche polizia carabinieri forestali guardia di finanza e le persone che hanno seguito questo corso sono abilitate per il l'accompagnamento su neve